E' iniziato con la commemorazione di Raffaele Zinno, figura importante per la storia politica della nostra città e della sinistra cittadina, il Consiglio Comunale di Napoli. Al centro della discussione della Sise, le due giornate di sciopero della funicolare a causa della malattia di alcuni dipendenti ANM. Opposizione e maggioranza si sono interrogati su come gestire al meglio la crisi aziendale per evitare disservizi ulteriori all'utenza, ai cittadini e ai turisti. Una brutta pagina per la nostra città, una brutta pagina per la nostra azienda. E' una situazione abbastanza anomala, anche se non è la prima volta che accade. Sono convinto che ci sia la totale buona fede, anche se è difficile, voglio dire, da farlo accettare ai cittadini che purtroppo quando arrivano alle funicare le trovano chiuse. Il motivo non lo so e ovviamente abbiamo chiesto all'amministratore di ANM e di fare tutte le verifiche. Io però vorrei essere chiaro, grande stima, apprezzamento e solidarietà ai lavoratori che ogni giorno si fanno un cuore così nell'azienda per garantire un servizio pubblico ai cittadini. Ma non possiamo tollerare che quando ci sono delle trattative sindacali in corso o quando ci sono delle vertenze, alla fine a pagare sono sempre i cittadini. La consigliera Alessia Quaglietta invece nel suo articolo 37 ha posto l'attenzione sulla chiusura dei CAV, i centri antiviolenza, a causa di una specifica responsabilità di Palazzo San Giacomo. La responsabilità è grossa perché io mi domando come sia possibile che il Comune di Napoli, che è la terza città d'Italia, non sappia come si redige un'istanza di partecipazione a un bando. Un bando che, ricordo, è relativo a fondi europei che avrebbero finanziato, che finanzieranno anzi tutti i CAV della Regione e che invece escludono in questo senso Napoli.